Esatto, Kikko Esatto, Kikko Ok, questo è il terzo Solo il video un po' Io non ho paura Sono io al 303 Sbaglio o hanno detto che non sarebbero più tornati? Ragazzi Marti? Oh bene, ecco di qui Ma anche non marti, c'è un po' questo Dio, fami Ok, solo il terzo A me serve per la descrizione Lo scrivo io dopo Madagascar 3 ricercati in Europa Ok, lo scrivo io dopo Solo più tardi lo scrivo Gloria, perché siete tutti così anziani? Quando ti sei guardato allo specchio l'ultima volta? Cosa? Eh? Svegliati, svegliati 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 Mati Mati è stato terribile Il solito incubo Non è vero Eravamo bloccati qui in Africa Ed eravamo tutti stravecchi E con le rughe Sola Stefania Francesco ha fatto giù Grazie stacco Grazie a tutti